il brano che suonerò è tratto dall'omonimo album della band con cui suono che sono i rails qui giù qui in basso troverete il link dove poter ascoltare l'intero disco entrando nello specifico al volo vi dico che registrerò entrando in quel pedale lì che è un overdrive dato che verso la fine del brano ci sarà una parte un po più incazzosa quindi sbam overdrive però vabbè la gran parte sarà diretta dentro questo radial che è un preamp lo terrò totalmente flat uscendo dall'adi ai questo ok no 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.